Uomini ancora contati e scelte obbligate per il Monopoli in vista della trasferta di Catania, dove la formazione di Colombo nella prima giornata del girone di ritorno, dopo aver chiuso l'andata al secondo posto in solitaria, cercherà di confermarsi sulla piazza d'onore anche per la fine del 2021. La buona notizia è rappresentata dal fatto che la trasferta di Andria non ha lasciato Strascic in infermeria e dal giudice sportivo e che quindi il tecnico Brianzolo potrebbe riproporre gli stessi convocati di tre giorni prima. La squadra ha raggiunto la Sicilia con un giorno d'anticipo e ha svolto lì gli ultimi allenamenti prima del match. Ipotizzando una probabile formazione troviamo Loria tra i pali, Riggio, Bizzotto e Mercadante sulla linea difensiva, Tazzer, Langella, Vassallo e Piccini al centrocampo con Grandolfo e Starita in attacco. Se non si dovesse ricorrere al minutaggio, come deciso ad Andria nell'intervallo, salirebbero le quotazioni di Viteritti per Tazzer e di Bussaglia per Langella. Fischio d'inizio alle ore 21 arbitrerà la gara il signor Collu della sezione di Cagliari.